ERIFUSI ASMR Ciao amici fiusini, come state? Spero tutto bene Benvenuti nel mio nuovo video Oggi andremo a vedere Questi magnifici cuoricini Questi qua sono stelline Le stelline più grosse Che sono come delle mini saponette Che ci sciolgono in acqua Questa luce aperta perché ero troppo curiosa E andremo a vedere come funziona Dopo vi girerò la camera Intanto li andiamo ad aprire E vedete la forma che ha Allora, questa qua Ha la forma di un cuoricino Guardate quanto sono carine Sono bellissime Sono proprio belle E poi sono profumate Ragazzi, sono super profumate Ora andiamo ad aprire Questa parola Poi da casa Siederò la camera E andremo a vedere come funziona Allora, questa parola Adesso dare una mano Dalla nostra Mamma mia Sono profumatissimi Anche quelli Sono veramente profati Ah, che belle Ragazzi Questa è una stellina Molto molto Che bella La rossa E adesso andremo a aprire Questi qua Eccolo ok ma ma sono buoni simile a qui città vediamo cosa c'è qua a dentro ah che belli ragazzi aspetta che ne prendo uno fatto meglio se lo trovo sono un po' storti comunque allora aspetta che mi circonda eccolo qua ragazzi sono alberini di natale mini pini sono mini pini guardate quanto sono carini ragazzi sono bellissimi ok detto questo adesso andiamo a girare la camera e vi farò vedere cosa cosa viene fuori ecco qua ragazzi io ci ho dato la camera spero che mi sentiate e adesso andiamo ad inserire quindi qua e vediamo cosa succede ragazzi sono molto curiosa ragazzi si stanno sciogliendo se mi avete visto guardate come si sciogliono adesso adesso vi guardate la stiglia è bellissima ragazzi si è sciolta si è sciolta si è sciolta si è sciolta praticamente guardate il cuore guardatelo si è sciolta e le pezzi ragazzi vediamo e praticamente va a profumarvi e a colorarvi l'acqua bene ragazzi spero tanto che vi sia piaciuto questo video e vi do appuntamento al prossimo video e spero che vi sia piaciuto un bacio e buona giornata ciao